Fratelli bianconeri e non, buongiorno a tutti voi. Allora dunque, primo video di giornata per parlare di una cosa che è un'informazione più che altro. Allora voi sapete che noi gestiamo un canale viola che abbiamo nominato l'udienza del Vartedì, quindi è un programma da un format diverso a quello che vedete qui, assomiglia sicuramente più a una trasmissione televisiva che a una classica live e quello vorremmo fare. Stiamo, come ripeto, abbiamo fatto la puntata anche ieri sera eccetera eccetera, però abbiamo notato alcune cose che non sono inerenti al programma che noi vorremmo fare. Il nostro sarebbe più un programma del tipo un incontro-scontro anche tra tifoserie diverse dove si potrebbe parlare di tutto e non la classica live dove c'è un conduttore e gli altri che rispondono come invece succede quando si fanno le live normalmente anche sul mio canale. Ecco, vogliamo fare qualcosa di diverso. Per cui vi comunico intanto una cosa molto importante. Abbiamo notato anche, ma l'avevamo già messo in preventivo, però abbiamo voluto provare lo stesso, il fatto che durante le partite delle coppe europee chiaramente la visione tende a calare perché gli utenti guardano altro. Benissimo. Allora innanzitutto la prima novità. La trasmissione non andrà più in onda alle 21.30 ma andrà in onda il martedì sera alle 22.30 e potrebbe dalle 22.30 fino più o meno alla mezzanotte circa. Ok? Può essere magari un minuto in meno o un quarto d'ora in più. Questa è la prima cosa. La seconda novità potrebbe essere anche una seconda puntata eventualmente da fare il venerdì parlando del VAR delle coppe tanto per dire o fare un'analisi approfondita anche dei martedì, mercoledì e giovedì di coppe. Quindi abbiamo in servo delle novità. Ok? Chiaramente ragazzi una cosa è scontata. Ve l'ho sempre detto dall'inizio. Quando si ha a che fare con programmi che non si sono mai fatti non si può pretendere di raggiungere la perfezione dopo la prima puntata o la seconda o la terza. Ci vogliono più puntate pilota perché perché tu puoi fare tutte le prove che vuoi ma i veri difetti vengono fuori quando tu sei in diretta dove vedi le cose che ci sono da correggere e noi lo stiamo facendo. Quindi non chiediamo di essere compresi tra virgolette però mettete in preventivo che qualche defezione nelle prime puntate la vedete è normale che sia così. Vogliamo cercare di darmi il miglior prodotto possibile ma la nostra trasmissione non è una live dove c'è un conduttore ripeto che fa domande e gli ospiti rispondono. Qui ci deve essere un po' anche un contenzioso no? Cioè dove gli ospiti intervengono ognuno per dire la sua non vogliamo fare una come posso dire un programma legato al processo di Biscardi questo no però è chiaro che un pochino di sale nel programma ci deve essere per cui mi rivolgo ovviamente a tutti vogliamo fare un programma un po' diverso ok ci stiamo adoperando per questo per darvi ripeto il miglior prodotto possibile quindi vi chiediamo di seguirci vi chiediamo di far iscrivere i vostri amici che non sono non devono essere juventini devono essere di tutte le squadre possibili immaginabili perché dal prossimo martedì cominceremo veramente a parlare nel profondo e cambierà anche un po' la gestione del programma ok fino adesso nelle prime due puntate che cosa abbiamo fatto abbiamo fatto vedere gli episodi del VAR e poi abbiamo detto tramite Gianni quello come ieri sera quello che l'episodio rappresentava da oggi in poi invece faremo una cosa diversa probabilmente faremo vedere prima l'episodio e poi commenteremo la partita o gli episodi di quella partita e poi ci sarà un commento sulla partita ok quindi diciamo che cambierà un pochino la linea su qualcosa già da martedì prossimo vedrete qualche novità per cui mi raccomando per chi non lo ha fatto andate ad iscrivervi al canale viola vi lascio il link sotto in descrizione e preparatevi per martedì prossimo anche con le vostre considerazioni della chat perché sono importanti perché come vedete le facciamo vedere le mettiamo in primo piano in visione per cui quando i commenti sono interessanti e perché no quando c'è anche un pochino di vena polemica sono ben accetti quindi mi raccomando appuntamento alle 22 30 per il prossimo martedì per la futura giornata calcistica e poi vedremo come proseguire ma noi confidiamo di riuscire a creare qualcosa di interessante che ci faccia diciamo così rilassare per un paio d'orette questa è la nostra intenzione ci vediamo martedì sera mi raccomando andatevi a iscrivere ore 22 30 l'udienza del martedì ciao a tutti